Ragazzi, come va? Io sono FeriNiki E io sono Stef, che seggi che mi è Escape Alcatraz E siamo ancora qui nella prigione di Alcatraz Prontissimi per completare il nostro piano di fuga Allora, facciamo un riassuntino veloce Prima di tutto, il sondaggio ha vinto continuare in video Quindi lo continuiamo in video, non lo facciamo in live Ma vediamo come siamo messi Abbiamo il cucchiaio, abbiamo il sapone Abbiamo la carta igienica, abbiamo i pennellini E ci mancano però tante cose, Feri Ci mancano i soldi che non sappiamo dove trovarli Un motore che non sappiamo dove trovarli I capelli, che continuo a dire Dove ce li tiriamo fuori dei capelli Chiediamo una guerra, scusi ci taglia un po' i capelli Vediamo un taglio all'ultima moda E te li posto in tasca Comunque allora Stavo pensando alla scena Che mentre te li taglio Ti cerchi di raccoglierli E li metti nelle tasche, vabbè Parlando di cose serie, vedo qua Evidenziato che ci dobbiamo procurare Praticamente le mantelle da pioggia Con cui infatti penso che poi Costruiremo e assembleremo il nostro gommone Non è molto sicuro come Neanche secondo me Io te lo dico Però va bene, va bene Lo testeremo e vedremo se funzionerà Allora ci darà la sua mantella da pioggia Se vinceremo tre volte Ok Ok, vai Siamo pronti Io non vincerei mai L'ha messo lì dentro Ok, è lì È lì L'ho già perso È lì È lì È lì È lì Qua Oh yes Ok Ci penso io, Feri Secondo passaggio mi ero già perso E non sapevo più dove fosse Ci penso io, ci penso io Non so terribile a sto gioco Non riesce a me confondere Io lo odio abbastanza Però poi quando lo faccio mi diverto Dai, dai Forza col secondo Ok, partiamo di nuovo da lì Oh, 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 oh Dove? Dove? Qua No, dai Io pensavo a quella al centro Sinceramente Ma davvero non riesci a seguirlo? No, no Non ci sento Allora, credo che il terzo metterà difficoltà anche a me Quindi adesso mi devo concentrare tantissimo Vai, vai, concentratissimo Perché sei la nostra unica squadra Sono pronto Ok Ok Dovrebbe essere No E vedi, questo Questo era veloce Ma ci resetta tutto? Ah, rifacciamo solo l'ultimo Ah, sì? Per fortuna Pensavo che resettasse No, per fortuna, dai Ok, ok, ok Teoricamente è qua Ok, 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 ok Bravi, bravi, bravi E Steph se la porta a casa E Steph se la porta a casa, dai Un solo errore mi piace, un solo errore mi piace Secondo me però qua dobbiamo fare ancora qualcosa Infatti non ci ha portato via Allora, qui a destra abbiamo finito Dobbiamo andare da quelli che si allenano Sì, andiamo ad allenarci, che bello Ok, vai, vogliamo far vedere chi è più forte? Penso che li dobbiamo mettere i pesi Sì, esatto, da quanto li vuoi? Infatti è quello il discorso Ah, 185 Allora, io ti metto un 45 qua Un 45 qua E siamo a? Faremelo se dire 90 Bravissima E vabbè, fin qui dai Andiamo a 135 Ok Andiamo a 160 Ok 170 180 180 185 Ready? Secondo me sono un po' sbilanciati Dopo un bel po' ho capito Vedi che c'è scritto 45 e c'è scritto barra? Sì, sì Ci sta dicendo che la barra pesa 45 chili Che è poco probabile Però facciamocelo andare bene Eh oddio, non sono proprio leggere Magari è di quelle super pesanti Perché c'è gente che si allena anche senza i pesi Ok Ok, Farem Quindi possono essere pesanti Ok, allora 45, 45 90 135 Ok Eh, 160 170 180 E 5 5 Yes Bravissimi Allora Allora A me sta venendo un attimo in dubbio Perché io ho visto che di mantelle da pioggia ce ne servono ben 14 14? Al momento ne abbiamo prese 2 E quindi c'è cosa dobbiamo continuare all'infinito finché non ne abbiamo 14 oppure non Aspetta Stavano parlando di tagliare i capelli Ecco lì Ok, ecco Ecco, ecco, ecco Finalmente siamo dal parrucchiere Buongiorno Guarda quanti bei capelli nel cestino che ci possiamo mettere in tasca Dice Keep your hands to yourself Quindi non provare a toccare nulla Però non capisco perché Ah, ok, sono nello specchio C'è il parrucchiere e la guardia E giustamente ti controlla E dobbiamo chiappare quei capelli lì sicuramente nella pattumiera in qualche modo E' molto raccapricciante Molto raccapricciante Cioè, allora Ce l'ho fatta? Li abbiamo già presi? Sembra Ok Ok Adesso facciamoci tagliare i capelli come se nulla fosse Vai Ok Bravi Ok Ma non è niente, sono solo curioso Sono un carcerato Ho paura a fare E dai Andate a guardare qualche altra cosa Guardatevi un po' di televisione Opla Ok Ok Opla No dai, ce n'era un altro Giratevi di nuovo Questo è il livello più brutto Te lo dico, eh Questa cosa di rubare Però è stato bello Sia i capelli che le forbici Sì, sì, sì Oh no Come ci passiamo? Hai qualche idea a fare? Consolini, guardate questa cosa Allora, buttiamo giù il vassoio Togliamo la presa E poi andiamo Capiamo Credo No 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 Ok, hai risistemato tutto Allora Scusi Avevo detto io che c'entrava il vassoio in qualche modo Ma poi Forse devo tagliarle a quel punto Sì, sì, sì Ci l'ho tagliata Tutto a posto Noi passiamo e non succede nulla Visto? Magicamente è caduto un vassoio Poi si è staccata la presa E l'è stata pure tagliata Queste guardie non sono molto sveglie Io te lo dico Non capiscono bene Non so chi vi abbia assunto Ma secondo me Non si è Meglio così, Fede E dai, scapperebbe chiunque Da questa prigione Con queste guardie Uh Ha detto che è l'ora della musica Ma che bello In prigione facciamo anche musica Fede Ogni volta che lui fischietta Mi sa che devo sbettere qua Ok Allora, vediamo Ok Ok Vai Sì, sì Sto facendo musica con Frank Vai Vai Ottimo Fede di me, Fede 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 Boom Premi più forte Perché magari così viene giù questo blocco E riusciamo a parlare finalmente con lui Ah Grazie 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 Tu che pensi a fare musica Quando invece è molto più semplice Scusa, Fede Pensavo che fosse No, no E lì fischiettava Pensavo fosse una canzone Fede, guarda C'è la mia testa finta Ti piace? No Va bene? È molto inquietante Allora, con la carteggine Che il sapone Abbiamo fatto una specie di forma di te Ah, siamo anche bravi Guarda Guarda come la modello Eh, ma qui siamo degli artisti Vabbè, vabbè Un po' eccessivo Time for some paint Ok Con un po' di arancione Ok Lo prendo Ok E inizio Esatto, esatto Così A dipingere la nostra bella testa finta Guarda che è geniale Nella vita comunque avremmo dovuto fare gli artisti Perché ci siamo fatti incarcerare? Cioè, guarda che bravo Poteva fare lo scultore Vero? Vero? È un fenomeno È un fenomeno Mancano i capelli Ovviamente Ho pensato però Pensavo dovessimo fare anche il colore degli occhi Allora Aspetta, aspetta Che lì dobbiamo sistemare Ok, poverina Un attimo Anche le sopracciglia e le ciglia Le abbiamo messo per far finta che stia dormendo No, vabbè 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 È scherzi dalla vita Te lo dico, eh È troppo, diciamo, ingegnoso Anche per noi È bellissimo E basta con le pubblicità però Allora Si spengono le luci Ci sono le nove di sera E si spengono le luci Quindi teoricamente ora posizioniamo la testa Giusto? E quindi è già il momento in cui proviamo a scappare No, forse dobbiamo scavare col cucchiaio Ah, ma devi iniziare a fare qualcosa Cos'è questa luce? Ah, credo che sia la guardia Ah, ok, sì Mi devo mettere a letto ogni volta che c'è la guardia, credo Certo, certo, certo Mamma mia Se non ci vede Appena scompare la luce Riesci fuori Vai qua Ferre Dimmi Piano piano sto riuscendo a farlo Guarda Vedi tutto il muro intorno? Sì, stai grattugiando Perché così piano piano tolgo la gratta Ferre Sì, ecco, ecco, ecco Vedi che secondo me sta venendo giù È un piano formidabile, Ferre Ci siamo quasi Allora, dai No, no, la luce La luce Oh, no Ferre, ti ricordi quando dicevi Ci servono 14 impermeabili? Sì Ecco Siamo nella lavanderia Io credo che sia questo il momento Per rubarli tutti Ah, beh, sì, sì, in effetti li rubiamo tutti da qui Quindi dobbiamo inventare qualcosa Allora, apriamo lo sportello Prendiamo questi, li mettiamo qua Chiudiamo lo sportello Dopodiché apriamo Mettiamo questi Giusto Ok, panni sporchi Sembra logico Ok, mettiamo un po' di cose Di detersivo Di detersivo Blah, blah, blah Chiudiamo E azioniamo Ok, ok Sono bravo a fare le lavatrici, Ferre Bravissimo, bravissimo Grazie, grazie, grazie A questo punto noi mettiamo questa roba qua E ne mettiamo l'altra Tacchete, tacchete, tacchete Ok, aggiungi Questo è quello che abbiamo già fatto Chiudi Ok, questo lo sappiamo fare a solo Allora, non aggiungere mentre sta funzionando Ok, vai, sappiamo cosa fare Dobbiamo fare tutto quello che dici di non fare, Ferre Azioni Nel mentre prendi aggiungi altro Ma dobbiamo rompere? Aggiungi detersivo Aggiungi detersivo E l'abbiamo rotta Cioè, davvero? Perché la dovevamo rompere? Perché secondo me ci serve un diversivo per poi rubare tutto senza far accorgere le persone Allora, a questo punto devo aprire questa specie di sportellino un attimo Tipo così Ok Ok Oh mamma mia Ok E poi lo giri quello, quello di sotto Ok, così E non è cambiato nulla No, questo di sotto lo vedi che non è collegato a niente Tieni, tieni, Ferre Tieni Come? Quando ci sono fili e percorsi Aspetta Ci devi pensare tu Io dici, ecco Ce li hai fatti Esatto Grazie Ok Ok Anche se non si collegano però è bastato per accendere tutto Ora devi sistemare tutto il resto No, grazie Oh, hai finito? No, no, devi fare tutto il resto Cioè, è troppo Ma stiamo fatti Vai, vai, vai Io vado a fare un caffè Ci vediamo dopo Neanche lo bevi il caffè, non è vero Secondo me l'abbiamo fatto È molto bello, molto carino Sì, si è illuminato di verde nel frattempo Quindi penso che stia ad indicare che l'abbiamo completato Allora Adesso? Ok 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 Io ho preso un bell'oggetto Torniamo indietro Vuoi sapere nello specifico che cos'erano? Secondo me dei cavi I power cord, sì Ok, ok, ok Quindi cavi elettrici Allora, quindi A questo punto dice È tempo di nuovi impermeabili Stiamo continuando a sgobbare impermeabili Guarda cosa dobbiamo giocare Quindi Se noi tiriamo più rocce di lui Nel punto giusto Vinciamo noi, giusto? Sì, mi è sembrato così Ok, provo Vai Perfetto È già andata malissimo Ok Ok, stiamo perdendo Fere Non è facile? Eh no, lo vedo Ok, bravo Ok, almeno uno Almeno uno E vabbè Vabbè è una testa Amico, ma quattro yardi malamente tu, eh Non vale Tutti i giorni nel cortile a giocare a sta cosa Fere, è ovvio che poi mi batte Non vale doppio quello? Non credo Ok Ha vinto Ha vinto Quindi riproviamoci Allora, concentrati Magari punta le gambe Che mi sembrano le cose più sem... Più semplici da fare Però devi puntare prima di lui Perché... Uh, questo era bello però, eh Uh, lo stava per rubare No, dai, la gamba È difficile la gamba E dai Ma no Ok, ha sbagliato Però sta sbagliando di più E vabbè, tu sbagli ancora di più Io sbaglio ancora di più, certo Ancora uno a zero Troppo E sbaglia Mi sono fatto prendere dal momento Ho vinto Abbiamo vinto Va benissimo Va benissimo Con un solo punto Ma si sa come Ma va bene L'importante è vincere L'importante è vincere Ce l'abbiamo fatta Un punto schifoso Esatto, esatto, esatto Eh, vabbè È stata una bellissima partita Allora, che altro c'è qua da fare? Una rissa! Allora, voi la mia... Il mio impermeabile Combatti per averlo Tieni, Ferre Allora No, no Tieni, tieni, tieni È il tuo momento Le dita sono prontissime Ferre, ti sta prendendo a pugni Dagli pugni, Ferre Non so come si gioca Ferre, devi per forza sapere come si rissa No, aspetta, aspetta Devi schivare Col telefono Muovi il telefono Ok Ok, e poi lo picchi Ma come? Non lo so, Ferre Ferre, sta rissa è proprio strana No, allora Allora, se si fosse trattata di una rissa classica È ovvio che io avrei vinto Ma se devo stare col telefono Così che si muove Non è più una rissa, scusami, eh Ma che rissa è questa? La rissa io voglio avere i pugni Non spostare il telefono E fare cose strane Allora Lo sto massacrando di pugni Se noti Sì Però È davvero scomodo Cioè, praticamente Dagli un bel pugno da parte mia Devo muovere il telefono Dalla parte opposta di dove lui dà un pugno Sì, esatto, esatto E automaticamente lo schivo Yeah Alleluia Non so quanto è durata questa rissa Tipo otto ore Però vabbè Alla fine La gente a fianco si stava addormentando Guarda Non era più neanche entusiasmante Guarda Tutto questo per un imperme Impermeabile È una parola difficile a dire Vabbè, ce ne servono ancora tanti altri Allora C'è un secchiello d'acqua Ah, prima seleziono Poi spruzzo Spruzzo il prodotto Ok, ok, ok Va bene, va bene, va bene Oh, ora sì che stiamo pulendo Ok, questa è una porta Ma non era pulito bene Cosa? Non era pulito bene Te l'ho dato fatto Era perfetto Vabbè Era perfetto No, aveva un po' di macchioline Non ci potevo spiegare dentro Guarda le macchioline che lasci No, è vero Guarda che fine di macchie Guarda Guarda come è perfetto Adesso, adesso Ecco, grazie, grazie Meno male che la metti Non ci potevo spiegare le cose sporche Lo so Quindi per favore fallo bene Lo so Ferre, dobbiamo trovare i soldi Esatto Allora, dove nasconderesti dei soldi in questa stanza? Io dietro all'orologio No Dici Nella borsa E vabbè Che cos'è questa cosa? Allora Vedi che c'è un codice da mettere Da quattro Da quattro numeri Ok Ok Però qua abbiamo decisamente più di quattro numeri Eh, sì A voglia A voglia A voglia A voglia Appenni saved Is a penny earned Lo vedi lì in alto Dove c'è la penna? Un soldo Un soldo risparmiato Un soldo guadagnato Esatto Grazie per questa Fin lì ci arrivo anche io Devo essere sincero Con le chiavi era l'ultimo Quindi facciamo 1911 Mi sembra logico, no? Ah, però in effetti Savings Perché c'è la frase di soldo salvato Quindi, capito Risparmiato Niente E se proviamo a sommare Savings, savings, savings Dato che appunto Sono tre savings Allora, sì Allora, è l'unica cosa che si ripete il savings Perché poi vedi gli altri Ci sono solo poche volte O comunque Anzi, una volta, una volta Quindi sì Allora Sommiamoli E vediamo che cosa ne esce fuori Perché mi sembra strano che ci sia tre volte Mi serve un foglio, Ferri Aspetta No, facciamo una calcolatrice Ascolta, lo faccio a calcolatrice Perché tu davvero È una gara, è una gara Ti vuoi mettere Dai, non l'ho neanche aperta Però, aspetta Allora 3, 2, 3, 3 Più Dove è l'altro? 1, 3, 2, 9 Zitto, zitto Che si concentra 1, 9, 1, 1 Fatto Fatto, fatto, fatto C'hai fatta? Ancora che fai i calcoli Dai, Steph Su che dobbiamo evadere 6.470? 3 64, 73 64, 73 Ok Sì, aveva senso, aveva senso E quindi adesso possiamo aprire questa borsa? Eh, non lo so, perché Yes Vabbè, ma Big money Che poi l'ha scritto L'ha letto cosa ha detto Dovremmo smettere di rubare nelle banche Ma dovremmo rubare nelle prigioni Che spesso Eh, ha ragione, ha ragione C'erano un sacco di soldi Mi riuscivo a leggere a dirlo perché mi sono emozionata Mi aspettavo cose tipo 3, 4 dollari E invece c'era il borsone pieno di soldi E io, eh, che bello Vabbè Ok, allora, ricapitolando Guardate che passi avanti che abbiamo fatto oggi Sì, questo episodio Abbiamo messo i capelli, i soldi I cavi della corrente Eppure le forbici E comunque stiamo andando avanti con gli impermeabili E quindi piano piano stiamo facendo anche quelli Allora, impermeabili quanti ne abbiamo? 4 forse Non ce lo dice Non ricordo Secondo me è due volte, due volte Quindi 4 4, eh, vabbè Mamma Quindi credo di sì Quanti ce ne mancano? 10, dai Ne mancano pochissimi In ogni caso, ci fermiamo così per questo video È davvero fantastico Dovrebbe mancare un solo video per finire questo escape Di nuovo sondaggino se lo volete vedere Finire in live o in video Quindi vediamo un pochettino come finirlo Speriamo che comunque vi sia piaciuto Io mi sto divertendo un sacco a farlo No, è molto bello E mi piace il fatto che sia lungo Cioè, perché è proprio una bella storia dietro Mi piace tanto questo Tutto sto piano che va avanti Sì, sì, sì L'erriso nella prigione Mi sento anche io come se dovessi evadere da una prigione Ed è una cosa davvero fantastica Bene che se riesci a dirci a dirci a dirci 10,5 like Questa è la prima volta che vi ho detto il nostro video Potete considerare i dati iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao, alla prossima Ciao, ciao!